Assumete una postura eretta. Togliete il cappuccio protettivo dal boccaglio. Agitate energicamente il dosatore. Espirate profondamente. Impugnate dosier aerosol verticalmente in modo che il boccaglio si trovi in basso. Circondate il boccaglio con le labbra, ma senza addentarlo. Ora inspirate lentamente e a lungo. Non appena iniziate l'inspirazione, liberate una dose di medicamento premendo la cartuccia tra pollice e indice. Continuate a inspirare lentamente e a lungo in modo che la sostanza inalata si propaghi nelle vie respiratorie e trattenete il respiro per 10 secondi affinché il medicamento nebulizzato possa depositarsi. Espirate Riposizionate il cappuccio protettivo sul boccaglio. Se utilizzate medicamenti che contengono cortisone, risciacquate bene la bocca con l'acqua oppure mangiate o bevete qualcosa per evitare infezioni micotiche o raucedine. Poiché diversi dosier aerosol non dispongono di un contatore, è importante annotare progressivamente il numero di dosi già erogate. Per inalare correttamente un medicamento tramite dosier aerosol dovete essere in grado di coordinare l'inspirazione con l'emissione dello spruzzo. È un'operazione complessa che richiede molta pratica. Per renderla più agevole è possibile utilizzare un distanziatore. Valutate questa possibilità con uno specialista. Valutate questa possibilità con l'emissione di un'emissione di un'emissione di un'emissione di un'emissione di un'emissione di un'emissione. Valutate questa possibilità con l'emissione di un'emissione di un'emissione di un'emissione.